questi capelli di luogo che ti sei un po' spettirato sì, mi devo andare, è un mese dal momento dove? ma sei tornato dalle vacanze? sì sì, ho fatto ho fatto tutti i monti, tutti i mari ah, monte? monte grosso monte? scaglioso monte? monte Sant'Angelo basta, basta così benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Ghesilesi siamo in diretta per Canta che ti passa abbiamo Frank iramericano ormai è diventato un personaggio a grande richiesta ci canterà resta con me di? di, 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 Domenico Modugno canterà Frank iramericano sono io non fateci caso se canta o non canta canta che ti passa vai, canta non canta canta, canta che ti passa giudicate voi ma pubblicità pizarro spettacolo pizarro spettacolo l'hai rovinato ma insomma, dimentico vai, vai aspetta vai, 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 vai resta con me pata su vai, 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 vai vai, 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 vai Ma dimmi sì, muore per te, vive per te, vita da vita mia. Non mi importa il tuo passato, non mi importa che ti abbia avuto, resta con me, con me. C'è la strumentale, adesso, scusa, dov'è il CD? Il CD, dov'è il CD? È uscito il CD. Vai bene, dobbiamo proporre il CD. Quindi, ultimamente, il nostro preghi l'americano, il CD preghi l'americano, non si compra, lo avrete in lo baggio, basta comprare, vai! Ma dimmi sì, muore per te, vive per te. Vita da vita mia. Non mi importa il tuo passato, non mi importa che ti abbia avuto, resta con me, con me. Tu mi è. Sempre nero. Eh, vabbè, CD, ricordate. Grazie. Perché hai bloccato la legislazione. Scusatelo. Scusatelo. Se non sono così, noi non li vogliamo. Saluta, saluta. Ciao. Sei educato, devi salutare. Buonasera. A propos, se tu riesci a vedere per volo questa tua figlia, poi ripote, poi ripote. Saluta, ciao. Ciao Miriam, Manuel, a mancette, Manuel, Dora, Cosme, e tutti dietro la banda arrivati. No, no, no. Il domani poi giovedì.